La presentazione del piano strategico 2020-2023 è un passo fondamentale, soprattutto in un contesto come questo che vede la minaccia del Covid. Il museo però non si è perso d'animo e insieme al professor Ludovico Solima abbiamo tracciato quello che sarà il percorso dei prossimi anni. In particolare l'obiettivo finale è di restituire un museo completo e riaperto alla città, un'area verde, uno spazio che sia epicentro del quartiere della cultura di Napoli, un istituto culturale che dialoga con i principali istituti culturali del mondo. Voglio segnalare però che il 2021 sarà l'anno della svolta perché vedrà non solo il braccio nuovo completamente riaperto con un nuovo ristorante denominato Accademia del Gusto, ma in particolare si aggiungono alle storiche collezioni quella dell'ala occidentale dedicata alla statuaria campana ma soprattutto da ottobre del 2021 il raddoppio delle collezioni pompeiane e l'apertura della sezione tecnologica pompeiana. Dopo questa operazione il MAN diventerà al mondo il museo archeologico più importante di archeologia classica. Quindi non ci perdiamo d'animo, continuiamo con ordine nel nostro cammino e porteremo sicuramente a casa il risultato più importante, quello di ridare a Napoli il primato dell'archeologia mondiale.